L'intelligenza artificiale sostituirà completamente il mestiere di fotografo? Nel corso di questo video vado a darvi la mia personale opinione, però non vi chiedo di fidarvi di me, perché farò degli esempi e vi farò vedere un lavoro vero che ho fatto per un cliente vero in cui abbiamo usato una tecnica mista. Abbiamo usato l'intelligenza artificiale per fare certe cose, abbiamo lavorato come volevo io in maniera tradizionale per fare altre cose. Dalla commistione di queste due tecniche vado a raccontarvi quella che è la mia filosofia. In merito, ovvero l'intelligenza artificiale è pronta a sostituire il mio lavoro e quello di tanti altri al 100% oppure no? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per aziende e per progetti musicali. Oggi vedremo proprio il secondo caso, perché vi farò vedere degli esempi di fotografie che ho realizzato per una band che doveva promuovere il suo disco. Prima di proseguire, io vi ricordo che se argomenti di questo tipo vi interessano, la cosa migliore che potete fare per voi stessi è iscrivervi subito cliccando il bottone qui sotto. Attivate anche le notifiche, così mi odierete perché vi inonderò di contenuti. No, scherzi a parte, mettete soltanto un like a questo video, le notifiche non attivatele. Veniamo nello specifico al lavoro in questione. Mi commissionano uno shooting per una band e hanno le idee molto chiare, perché siccome il disco è a tema horror, vogliono dei fondali horror. Per questo motivo noi andiamo a creare, anzi devo dire la band crea in autonomia, quindi non li ho fatti io, la band crea dei fondali horror con stable diffusion, credo, un sistema di intelligenza artificiale generativa per immagini, non importa quale, perché tanto più o meno siano sempre lì. Creano questi fondali e questi fondali sono di buona fattura, secondo me, sono di buona qualità, soprattutto visto il fatto che non saranno giganti e che saranno parzialmente sfocati, quindi sono andato a introdurre un po' di blur, un po' di sfocatura su questi sfondi, quindi anche se ci fossero stati dei problemi, sarebbero stati parzialmente offuscati, perché il soggetto sono comunque le persone. Ora, come avrete già capito, noi andiamo a fare un fotomontaggio di questa cosa. Io vado a fare un fotomontaggio di questa cosa, nel senso che scatto le foto dei membri della band e poi li scontorno e li applico su questi fondali realizzati con intelligenza artificiale. La cosa interessante qual è? La commistione tra queste due cose produce un risultato, a mio parere, molto azzeccato, ma questo succede per un motivo ben specifico. Chiaramente non sono qui a negare che l'intelligenza artificiale abbia giocato un ruolo chiave nel successo di questa produzione, perché queste ambientazioni io non ce le ho. Noi non avevamo a disposizione degli interni grunge distrutti di questo tipo per realizzare questo tipo di shooting. Se ce li avessimo avuti sarebbe stata una bomba colossale, perché avrei portato due milioni di luci e avremmo fatto una cosa bellissima come non si era mai vista prima. Ma non ce l'abbiamo, perché comunque trovare posti del genere non è facile. Quindi abbiamo preso delle immagini fatte con intelligenza artificiale che, attenzione, vengono da immagini di altri. Quindi quelli saranno posti veri con pezzettini cambiati in base a un randomizzatore. Saranno degli interni veri fotografati da qualcun altro che magari sono stati specchiati o aggiustati in qualche maniera, è stato aggiunto qualcosa, ha tolto qualcos'altro. Sostanzialmente sono quasi delle foto vere, perché l'intelligenza artificiale comunque genera prendendo pezzi di foto di altri. I fondali, secondo me, sono stati generati abbastanza bene, anche se l'intelligenza artificiale non può produrre cose horror splatter. Quindi, per esempio, il sangue sui muri è stato aggiunto in post-produzione perché per una produzione horror volevano questo tipo di look. Ovviamente Stable Diffusion non produceva immagini di questo tipo. Adesso non mi ricordo neanche se era Stable Diffusion, però poco importa. La maggior parte di questi motori, se tu gli dici mettimi del sangue sui muri, mettimi qualcosa di brutto, qualcosa di gore, ti dicono no, non posso farlo e controlla la nostra policy. Quindi molte cose non te le fanno fare. Per cui il sangue è stato applicato in post-produzione. Molte cose, anche sullo sfondo, sono state applicate con Photoshop e con metodo tradizionale. La cosa però che ci interessa, che mi interessa di più farvi vedere, è come gli sfondi sono stati abbinati alle persone. Perché quello che è stato fatto è un lavoro fotografico a monte. Ovvero, noi abbiamo creato i fondali. E con i fondali in mano abbiamo detto, allora, questo membro della band avrà questo fondale benissimo. A questo punto io vado a illuminare lo shooting in maniera tale che le luci sul membro della band abbiano una coerenza con quelle dello sfondo. Quindi se c'è una lucetta arancione sullo sfondo, io vado a mettere un faretto con un gel dello stesso colore, quindi arancione, sul retro in maniera tale da avere la retroilluminazione sul membro della band in maniera tale che sembri coerente poi una volta che viene miscelato con il fondale. Ovviamente poi bisogna andare a fare color grading e color correction per matchare le due cose perché hanno dei colori completamente diversi, ma questo viene fatto tranquillamente. La cosa però che secondo me è essenziale, quello che vi porto oggi, è che sì, l'intelligenza artificiale può fare tanto, ma non può fare tutto. In uno shooting come questo, se io avessi fatto le fotografie senza curarmi dell'illuminazione, se io gli avessi fatto una luce piatta sui miei soggetti e li avessi incollati su dei fondali come questi, l'effetto sarebbe stato atroce perché si sarebbe visto lontano un miglio che mancava coerenza, che la luce non era quella. Ora attenzione, stiamo comunque parlando di un set fotografico con delle luci fotografiche, quindi si vede che i soggetti hanno la luce studiata, fatta apposta. Si vede, è impossibile non vederlo, però si vede anche nelle grosse produzioni, nei film, nei poster, quindi è normale che sia così. La coerenza però, data da una kick light come quella che uso io, la lucetta blu da questa parte, io ho il giallo caldo degli interni da una parte e il freddo della notte dall'altra, è un effetto cinematografico vecchio come il mondo, che però funziona. Utilizzato in un contesto come quello, quindi andiamo a matchare le luci che ci sono nell'ambiente, se c'è una retroilluminazione andiamo a creare una retroilluminazione sul nostro soggetto in maniera tale che risulti realistico, fa tutta la differenza del mondo. Quindi, quello che vi voglio portare oggi è, va bene usare l'intelligenza artificiale, però non dobbiamo dimenticarci di usare la nostra intelligenza, perché se noi ci affidiamo totalmente all'intelligenza artificiale, purtroppo è quello che vedo succedere molto spesso, clienti che mandano foto su WhatsApp fatte con questo, e dicono, senti, mi scontorni e mi metti dietro lo sfondo, lì bisogna pregare i santi perché venga bene, perché se per puro caso lo sfondo che tu vuoi applicato dietro è già coerente con la foto che mi mandi, lì è andata di fortuna. Nella maggior parte dei casi questo non succede, quindi abbiamo poi un effetto che non è coerente. E a mio modo di vedere è un peccato, perché posizionare le luci, studiare l'illuminotecnica di uno shooting è una delle cose più divertenti in assoluto. Io mi diverto tantissimo, mi divertivo tantissimo quando facevo l'assistente per altri, e quindi posizionavo le luci per altri. Io mi divertivo di più a fare quello che non a fare la foto vera e propria, cioè a premere click, a fare così col dito, sapevo già di essere capace. Ma la cosa che mi esaltava di più era di aver creato la luce che poi qualcun altro stava catturando, l'avevo fatta io, avevo messo io le luci in un certo modo. Quella era in assoluto la cosa più divertente, poi certo il risultato, bello, tutto quello che vuoi, però quella è la cosa che ti dava veramente la sensazione di aver creato qualcosa, perché fisicamente col tuo corpo hai spostato delle luci, hai preso delle decisioni, ci hai pensato, hai guardato la scena, hai orientato delle parabole. E quindi quello è un qualcosa che l'intelligenza artificiale al momento non può fare, perché comunque hai voglia di dire all'intelligenza artificiale scontornami il soggetto, mettigli dietro questo sfondo, però poi rendimi coerenti le luci su questo soggetto, non te lo farà mai. Per quanto ho potuto vedere, l'intelligenza artificiale non capisce nemmeno tutti i comandi che le impartiamo, quindi un comando di questo tipo è troppo complicato, non ce la fa. O meglio, io vi pongo anche una sfida, provateci. Se qualcuno di voi ci riesce e vuole farmi vedere un risultato, fatemi vedere che questa cosa è possibile anche con l'intelligenza artificiale. Per quello che ho potuto constatare io, non ci si riesce, almeno con i sistemi che ho provato io, che sono Leonardo AI, Stable Diffusion, non mi ricordo cos'altro ho provato, non ci si riesce a farla bene quella cosa lì. O lo fai finto di default, allora dici, ti do dieci foto di questa persona, creami un'immagine finta con questa persona in questo contesto, allora te lo fa. Ma se vuoi una foto vera, non ce la fai a fare questa cosa. Allo stato attuale non ce la fai. Cioè fai prima a farla totalmente finta. E questo però è un peccato. Perché quando io fotografo una band, la band vuole esserci davvero in quel prodotto lì. E quindi vogliono che le foto siano state fatte per davvero. Come tutti vogliamo che le foto siano fatte per davvero. Secondo me chi ricorre all'intelligenza artificiale è solo perché la cultura di massa gli ha imposto di credere di essere una brutta persona, di non essere all'altezza di Instagram. E quindi siccome ci vediamo brutti preferiamo fare una cosa finta con l'intelligenza artificiale. Oppure perché non hai un buon fotografo che ti fa una foto. Questo è il mio pensiero. Fatemi sapere in un commento qui sotto che cosa ne pensate. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se avete trovato interessante questa dissertazione. Ne seguiranno sicuramente delle altre. Vi ricordo anche di lasciarmi un piccolo like perché a voi non costa nulla. Mi date una grossa mano. E signori, è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi. E io vi do come sempre appuntamento al prossimo video. Ciao! 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 Grazie.